Cioè che fai più conto su te stessa più che sulla famiglia? Sì, la mia famiglia ha anche il leone. Che è il tuo cane. Sì, mi ha cambiato la vita. Io ho un papà che ha quasi 70 anni. E quindi è anche un po' freddo lui. Il leone ha cambiato un po' anche la visione che lui ha di casa. Oh, lo sto congelando. Eh, infatti lo vedo. Quindi potresti anche venire a dobbiamo abbraccio. A me fa troppo ridere, a me fa troppo ridere. Vabbè, non sono capace di approcciare, cioè io non sono fatto. Te ne fai tante domande su di me? Eh sì, un po' sì. Comincio a farmene un po', diciamo. E ci pensi quando ho a casa? Sì. Anch'io ci penso. Non troppo, però ci penso. Anch'io è vicino che è sempre a me. E questo imbarazza. Allora sì, un po' sì. Un po' meno barato. Grazie a tutti